Papi! Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, come volevo ricordare il percorso che vi ha preso, sarete tutti che arriviamo, saranno comunque due giri, chi fa la 5 verrà fermato che invece del campo fa cantare, chi fa la 10 proseguirà, arriva lo stesso percorso e il campo sarà quello che va in valle, quindi il primo giro non si va in valle, il secondo giro solo per la 10 andranno giù dalla vittoria diciamo e saleranno più e più, però è tutto sempre il percorso. Come è solito però, la domanda sulle a mi raccomando nella gara competitiva, quindi andiamo davanti al servizio biciclette del nostro gruppo Compartin che farà la premista, quindi viene avanti e seguirà sicuramente il ragazzo. La premista, l'indice, che non sappiamo qua fuori. Sul percorso ci sono diversi nostri che ci hanno aiutato nella segnalazione, quindi fino a male a tutti i croci, abbiamo cercato di mettere quattro persone che la aiuterà in polizia, e poi io direi che ci saranno un po' di premiazioni sulle 10 domenici delle donne, non sono terro, ma si è femminile, e i bambini invece delle mie che deve restare verranno premiati solo sulla 5, quindi la 5 alla premiazioni sulle dei ragazzi, e le mie che deve restare. Non vediatevi, non vediatevi. Direi che ci possiamo condizionare per sé. inizierà la partenza, che se riusciamo a tenere a 9 e mezza, partirà prima la 10 di ora, tutti i fatti si mettono qui a 5 ora per quel campo. ... ... ... Grazie. Andiamo, 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 siamo in macchina. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. 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 grazie a tutti Allora viene la partenza, dove sei? Ok, ok Sì perché è così Sì Certo Allora Bravo Allora Ricordatevi Chi fa la 5 km Venga per favore Non sono io qui Per favore qua La 5 km Vediamo il gruppo separato 5 km No no A 5 km Dietro di me A 5 km Partire da 10 km E poi dopo Anna Anna Ok La 5 km Va bene Tanto poi Appena 4 km Mi faccio passare avanti Voi Non deve passare La 5 km Deve passare lui Voi sarei di fuori Mi date la mano Sì 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 Ok Fermi qua la 5 km Mi raccomando Ok Fermi qua Ok Due biciclette Davanti Invece per voi Per voi Ricordo che Il Vibio sarà Il primo giro Vi manderanno direttamente In paese Quindi c'è il nostro personaggio Perché non si va in valle Quindi quasi valvatorio Parco Vedo il suo giro Quando facciamo Il primo giro Pensate di qua Sì Sono parlato avanti Mi mette nel punto E si va in valle E ci sono Il personaggio Quindi Invece 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 Quindi sono Sono una Guardate Qui c'è Invece Sono le biciclette Davanti Sono le biciclette Sono là I due biciclette Sono là Sono pronti 929 Io direi che ci siamo Sì Cioè Facciamo una foto A noi Dai Dai Ok Ok Johnny Ricordo, comunque alla fine, quando siamo arrivati da un po' ci sarà un massaggino salamella, quest'anno l'abbiamo fatto il risotto, ma ci sarà un massaggino salamella, per tutti i quali ci vanno. Passiamo a partire, la trentacintesima, diciamo, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, teniamo la trentacintesima. Grazie! aspetta aspetta si, 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 no, no, vabbè, intanto io ho detto un paio di minuti allora, ripeto ancora, per essere sicuri la città non va in valle, quindi quando arriveremo nel punto, diciamo, dove si scena la fintoria ci sarà il nostro personale con voi, con il piccolare nero qui nel paese, senzoni, curatorio, parco, quindi non si va in valle non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio e quello che c'è di voi, di questa qua, della città di verano premiati i primi tre elementari e i primi tre elementari ok, con la calotta anche per voi, alla fine ci sarà un assaggio salamella quindi tutti gli iscritti, chi invece ne ha, ci sarà un assaggio salamella ok, io credo, scusate a scredo però dopo c'è la manifestazione io per il bicicletta quindi, anche questa volta siete aperti 05 e 4 3 02 via 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.